Ora scordiamoci i controlli, l'unica cosa che potranno controllare è a fare i spiacopi, cioè a vedere se i fedenzati si avvicinano a un metro di distanza, è l'unica cosa che potranno controllare, per il resto è tutto ammesso, cioè tu trovi il posto di blocco, muovi in barro un segreto, va bene, ok, vi ferma la battuglia dei vigili urbani, dove stai andando a comprare il gelato e me lo vado a mangiare a casa, non vi possono dire nulla, quindi è inutile che dite quanta gente c'è in giro, quando ce ne sarà in giro, ricordatevi queste parole, ricordatevi queste parole, ecco perché io vi prego, vi scongiuro, fate attenzione a voi ragazzi, a voi anziani, vedo gli anziani, i capocandiri, i manarroti che vanno guardando, non cazzo è, statevi a casa, ma si fa pericoloso, ma venite, oh creatore, noi pegnatiri, venite!